Sono il più giovane del gruppo, devo ringraziare la società, sono qua con la prima squadra e mi trovo molto bene, anche se i carichi di lavoro sono molto diversi da quelli che faccio con la mia squadra però sono molto contento e ancora ringraziare la società e il più grande per avermi dato questa opportunità